Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti a Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV che come tutte le mattine naturalmente apre la giornata e la finestra informativa su tutto quello che è avvenuto e naturalmente che potrete trovare nei quotidiani in edicola, come sempre Corriere Adriatico e il resto del Carlino qui sul nostro touchscreen sono pronti fra pochissimo vi faremo vedere le pagine però procediamo come sempre con ordine al manaco del giorno e poi previsioni del tempo vediamo quindi il santo di oggi con l'aiuto della grafica, martedì 3 gennaio, Santissimo nome di Gesù la chiesa celebra questa ricorrenza, il sole è sorto alle 7.41 e tramonterà alle 16.44 guardiamo le previsioni del tempo, per oggi come vedete la iconografia sulla cartina della protezione civile le marche è molto chiara, eloquente, è un tempo all'insegna della variabilità e sui rilievi anche come vedete la prevalenza delle nevicate, nuvoloso e completo nella prima parte della giornata è coperto con graduale attenuazione della copertura nel corso del pomeriggio di iniziare da nord precipitazioni sparse nella prima parte della giornata localmente anche a carattere di rovescio la quota neve come vedete la quota neve inizialmente è intorno ai 1200-1300 metri ma si andrà abbassando nel corso della mattinata fino ad arrivare a quote collinari 700-800 metri vediamo quindi che cosa ci riserva il tempo per domani mercoledì compare la simbologia delle gelate, sereno poco nuvoloso sui rilievi, velature e copertura nella tarda serata meno nubi, meno pioggia, un po' più di sole però questo appunto precipitazioni assenti farà sì che si abbasseranno le temperature sui valori minimi e quindi insomma fenomeni particolari come vedete gelate notte e tempo e nel primo mattino per giovedì situazione più o meno la stessa, gelate e nevicate sui rilievi anche sulla costa vedete nelle basse marche compare la simbologia mista di acqua e neve e quindi insomma le quote neve inizialmente intorno ai 900-1000 metri si abbasseranno gradualmente fino a quote collinari o addirittura localmente anche a quote più basse quindi quasi sulla costa, in diminuzione le massime e in aumento le minime queste le previsioni per le prossime 48 ore fino a giovedì e quindi insomma questo è, prendiamone atto vediamo ora che cosa ci propongono i giornali questa mattina in edicola partiamo dal Corriere Adriatico, apriamo la pagina di apertura il Tribunale resta sbarrato, quindi siamo a Pesaro pericolo porveri tossiche, iniziata la bonifica dei piani coinvolti nell'incendio ma ci vorranno ancora giorni e poi fotonotizia, scoperta la grotta custode del tempo e l'avventura del gruppo di un gruppo di speleologi marchigiani vedremo poi di che cosa si trattano all'interno delle pagine guardiamo allora la vicenda del Tribunale come si presenta nei primi giorni dell'anno sicuramente difficoltosa l'attività al Palazzo di Giustizia che rimane chiuso, polveri e fumi, troppi rischi già avviata la bonifica nei piani coinvolti nell'incendio il divieto di accesso è prorogato sino a nuovo ordine come vedete qui nella pagina del Corriere Adriatico c'è insomma tutto quello che è il quadro in questo momento della situazione, che cosa è successo una ricostruzione completa la potrete trovare in questa pagina continuiamo sulle pagine del Corriere Adriatico che riguardano naturalmente Pesaro fuoco, acqua e vento un decennio di guai in passato allagamenti e danneggiamenti nel maltempo per il maltempo appunto continuano le indagini sulle ragioni del rogo e quindi del Corcio Circuito disagi per gli avvocati naturalmente ora dovremo vedere come poterci organizzare ecco in questa foto vedete l'interno del Tribunale come si presenta agli occhi di chi gli si reca in questi giorni naturalmente da parte dei tecnici e dei vigili del fuoco rimaniamo ancora nella pagina che riguarda Pesaro per un altro edificio un gigante definito così nelle pagine del Corriere Adriatico che torna all'asta si parla del Flaminio è un affare valutato intorno agli 11 milioni e mezzo ora potrebbe essere acquistato per poco meno della metà 5 milioni e mezzo a marzo la vendita senza incanto a oggi scade l'affitto rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico ve le faccio vedere tutte quelle che abbiamo scaricato siamo appunto in quella che riguarda Fano e potete vedere appunto pronta la nuova strada realizzata al porto da Marina Group come owner di urbanizzazione dei nuovi fabbricati il progetto prevede l'edificazione di 30 mila metri quadrati per pesca e cantieristica navale ecco se passate in questi giorni lì la potete vedere è una bretella insomma che collega direttamente appunto la zona senza fare il passaggio davanti alla zona dell'alesaggio dei pescherecci nella zona del porto nuovo a febbraio poi siamo appunto sempre in quella zona a febbraio è previsto l'avvio dei lavori per il restyling della passeggiata dell'Isipo tutta la passeggiata dell'Isipo che insomma è un importante importante sito anche turistico una bellissima passeggiata che ha bisogno di alcuni aggiustamenti per renderla ancora più bella ancora più fruibile da tutti coloro che vogliono recarsi lì appunto ancora ultima pagina che vi faccio vedere nella sezione di Fano ogni giorno 60 volontari impegnati nell'assistenza parliamo ancora una volta delle attività svolte dal Cibiclub Mattei in prima fila contro il appunto il terremoto sono stati i nostri volontari di protezione civile appunto del Cibiclub Mattei sono stati tra i primi ad arrivare nelle zone terremotate a piantare subito il campo base la cucina che ha sfornato oltre 600-700 parzi al giorno da subito per conto del Comune i servizi anche vicino alle scuole i trasporti per disabili e la sorveglianza alla Paolini tra le attività del Cibiclub Mattei il Comune potenzia l'organico del personale scusate i nuovi concorsi e assunzioni nelle graduatorie ma il turnover per ora è limitato dalla Valcesano una pagina naturalmente legata alle festività fede e talento la natività diventa un'opera d'arte tanti allestimenti di grande pregio viventi artigianali e meccanizzati quindi un viaggio all'interno dei presepi qui nella pagina della Valcesano del Corriere a San Lorenzo in campo molto apprezzata la scena costruita dalla parrocchia davanti alla pieve di San Biagio per gli appassionati dell'arte presepiale insomma sicuramente questo questo Natale ce n'è stato insomma di materiale in abbondanza tra Urbino Fano insomma in piazza c'è una mostra bellissima di presepi di arte napoletana e poi quelli sparsi per la città insomma il presepe di San Marco naturalmente che a livello nazionale attira anche i network insomma la RAI quindi insomma sicuramente questa è una zona che offre molto da questo punto di vista andiamo a Senigallia con la pagina del Corriere Adriatico per lo stacanovista del Consiglio duello interno alla maggioranza Beccacece non ha fatto un'assenza il presidente Romano presente anche con l'influenza questi sotto nell'elenco snocciolate tutte le presenze in Consiglio appunto lo stacanovista si indica appunto colui il quale è fedele dal noto Stacanov che era un operaio russo che divenne celebre appunto per il suo attaccamento al lavoro dal di lì si dice stacanovista proprio in virtù di questo operaio che si chiamava appunto Stacanov andiamo nelle pagine del resto del Carlino quella di di Pesero anche qui in titolo sotto il titolo di testa il tribunale si indaga sulle cause il problema in questo momento sono appunto i fumi tossici allora la Girardi in regione ora Ricci cerca il segretario dopo l'addio di Deborah siamo appunto nella pagina insomma in questo articolo di Spalla che riguarda il comune di Fano e poi fotonotizia per la partenza dei saldi saldi di speranza titola così il Carlino partono ufficialmente giovedì i commercianti non hanno mai tradito ma chi fa il furbo continua intanto la moria di negozi quindi insomma i centri centri delle nostre città si vanno via via spopolando per la moria di negozi insomma di esercizi commerciali che aprono e che chiudono per i morsi della crisi ma insomma nelle le